Buonasera, buonasera, ben trovati. Primo appuntamento di Topic, l'approfondimento giornalistico che vuole aprirsi sulla realtà siciliana a 360 gradi. All'interno di questo spazio ci sarà ovviamente il mio pensiero che vorrò condividere con voi che ci seguite per fare delle riflessioni insieme. Intanto vi dico subito che potrete anche scriverci i vostri messaggi su redazione spazio notizia.it e la nostra mail per raggiungerci e darci eventualmente dei consigli e anche ovviamente se avete qualche argomento da volerci portare alla nostra attenzione per far sì che ci possa essere un approfondimento, fatelo, noi ovviamente vi aspettiamo. Io non avrei mai voluto partire con Topic oggi per parlare di un argomento che ci tocca profondamente, che ci sta particolarmente a cuore e che ci rende praticamente inermi su quelle che sono le vicende che accadono e su quello che purtroppo una banda di ragazzi è riuscito a portare a compimento. Allora per parlare di questo argomento ho chiesto il conforto di un'addetta a lavori, la dottoressa Amalia Zampaglione che è la presidente di Sham Officine, un'associazione che si spende per la difesa delle donne e dei minori vittime di violenza. Io la ringrazio, la vado subito a presentare, buonasera. Buonasera e grazie direttore. Allora, dicevo, una parentesi che è disgustosa e assurdo dover raccontare di giovani che passano il tempo solo ad attaccare delle figure indifese, metterle in ginocchio e arrivare addirittura allo stupro. Ecco, il governo in questo contesto sembra disarmato. Noi cittadini siamo disarmati, è intollerabile quello che è successo perché si dice sempre e si piangono lacrime quando la cosa è accaduta e invece non si pensa o forse si fa troppo poco per evitare che queste cose accadano. Sì, assolutamente vero direttore. Purtroppo devo anche dire che c'è poca attenzione in realtà da parte di certi governi. Faccio riferimento a una nuova direttiva in materia di contrasto alla violenza sulle donne. Parliamo già dell'8 marzo del 2022, quindi quasi due anni fa la Commissione europea aveva proposto una nuova direttiva proprio in materia di contrasto alla violenza di genere. Bene, questa proposta era stata accolta dal Parlamento europeo con 71 voti favorevoli su 83. Però nel Consiglio europeo questa nuova direttiva ha incontrato il no da parte della Polonia, dell'Ungheria, della Francia e della Germania che hanno addirittura ha deciso di stralciare la parte relativa, quella per la quale lo stupro, che lo stupro se non c'è il consenso. Quindi si rimette nuovamente in discussione l'esplicito consenso o meno all'atto sessuale. Ed è una cosa grave, c'è stata una relatrice italiana al Parlamento europeo, Pina Picerno, che ha denunciato questo inaccettabile arretramento. Addirittura sono state eliminate delle proposte normative che erano state fatte sia dal Parlamento europeo che dalla Commissione europea e che alcuni governi stanno depennando, alcuni governi nazionali. È stato addirittura eliminato l'articolo e quindi assieme all'articolo anche la sanzione del reatro di stupro come rapporto sessuale in assenza del consenso esplicito delle donne. Sono state eliminate anche le norme relative alle moleste sessuali sul posto di lavoro e anche per quanto riguarda l'agonia mediatica, la violenza che va in rete, adesso sembra beffa, è veramente assurdo tutto ciò, la donna deve provare l'eventuale danno che subisce dalle replicarsi delle immagini in rete. Quindi ci ritroviamo assolutamente in difese in realtà. Ecco, dottoressa, è una cosa questa che noi purtroppo dobbiamo evidenziare quasi con cadenza quotidiana. Sappiamo che c'è una violenza assurda, ma è una violenza che io vorrei anche attenzionare in questo modo, è una violenza sul soggetto debole, che possa essere una donna è palese perché purtroppo le vittime sempre più sono donne, ma non sono solo donne, è una violenza di persone che è probabilmente forti del fatto che non c'è una certezza della pena, non c'è una particolare attenzione, una sorta di prevenzione, perché noi diciamo spesso è meglio prevenire che poi curare, perché poi piangere quando il latte è versato è una cosa che non è concepibile, non è sopportabile. Io le faccio anche un esempio, ho letto delle dichiarazioni di una collega giornalista che ha un po' evidenziato quello che è successo lo stesso giorno che c'è stato lo stupro alla Villa Bellini. Allora tutti, sento io, nell'immaginario collettivo, la Villa Bellini è un luogo dove c'è il terra di nessuno, non c'è un presidio del territorio, accade la qualsiasi, ma può essere che nel 2024 noi dobbiamo avere ancora delle zone ombra, delle zone che non sono presidiate dalle forze dell'ordine. Raccontava la collega giornalista che lì c'era solo un vigile, un appartenente alla polizia locale, ma che era probabilmente a fare i suoi bisogni perché non è stato trovato quando è stata fatta richiesta di soccorso da coloro che hanno subito attacchi di pietra, colpi di pietra, insomma giovani che non vengono puniti, che sono liberi di scorrazzare per questa città, liberi di fare qualsiasi cosa perché si vestono con l'etichetta della libertà minorenne, il minorenne non si può fare nulla. Questo dalla scuola, dalla formazione di base, dal presidimento del territorio bisogna partire, o no? Sì, ed è una delle cose che ho cercato di sottolineare proprio in occasione della manifestazione che si è tenuta l'atto ieri sera in Villa Bellini durante i festeggiamenti della Santa, di Sant'Agata. Non una di meno, assieme a tanti altri cittadini che hanno voluto partecipare, si sono appunto ritrovati presso la Villa Bellini per dire il no all'ennesimo evento, all'ennesimo stupro. Ha detto una cosa particolare direttore, ecco far riferimento alla scuola, all'importanza della cultura. Io ho fatto presente in quell'occasione che purtroppo spesso ci ritroviamo a vivere queste condizioni di violenza come se fossero dei casi eccezionali, sino a quando verranno trattati come tali non ci renderemo conto, non avremo la consapevolezza del fatto che è una piaga sociale che è ben radicata nel territorio, anche nel territorio catanese. La scuola ha una funzione fondamentale, assolutamente fondamentale, perché è un problema culturale e sino a quando non se ne assume la consapevolezza non basterà assolutamente cercare di prevedere una pena che possa in qualche modo determinare lo spauracchio. Ecco, è sempre poca cosa, così come ha poca importanza andare a rilevare la nazionalità, l'etnia dello stupratore o dell'aggressore, perché qui ci ritroviamo davanti comunque ad una violenza che non conosce confini, che ci si ritrovi in confine italiano o oltre confine a poca importanza. Bisogna affrontarla partendo dalle scuole, da un'educazione alla relazione, alla effettività, ma ancora prima dal contrasto degli stereotipi di genere che purtroppo costituiscono anche parte della nostra cultura. Ecco, possiamo anche dire, dottoressa, che questi ragazzi, questi giovani, se li possiamo definire così, prendono esempio, hanno dei cattivi maestri, perché se l'italiano, e vedi cos'è successo a Palermo, perché a Palermo non lo dimentichiamo, fino a qualche tempo fa, ma è ancora recente, la ferita di una ragazza aggredita da un branco di deficienti, di persone che non si possono definire diversamente, l'hanno stuprata, l'hanno proprio massacrata e poi la cosa grave è che c'è qualcuno che prova anche a difenderli questi soggetti. Ecco, partiamo da lì, non è la questione della razza, dal colore, dell'appartenenza, qui è il fatto che chiunque tra questi giovani cerca dei modus operandi che sono totalmente negativi. Ecco, a questi giovani, non solo quelli che vengono dall'estero, ma anche quelli che sono qua sul territorio, bisogna educarli diversamente e soprattutto dargli lo schiaffo quando c'è bisogno dello schiaffo. La cosiddetta pena, cioè non puoi passare inerme una situazione del genere, una ragazzina di 13 anni è distrutta nella sua vita e poi voglio dire, il ragazzo che l'accompagnava, che è stato costretto anche a vedere lo scempio di questi mentecatti che hanno fatto questo. E ripeto, non ne faccio una questione di colore e di pelle, ma ne faccio proprio una questione di momento drammatico che la società civile sta vivendo. Questo è il problema e, come detto prima, io sono perfettamente d'accordo con lei, la scuola deve fare i suoi primi passi e la famiglia deve prendere coscienza di avere dei ragazzi che devono essere tutelati, nel senso che bisogna fargli evitare di arrivare a fare questo gesto. Quindi bisogna monitorare. Poi è chiaro che il governo, la politica deve fare il suo percorso, deve far sì che la Villa Bellini torni ad essere un centro di benessere, non un centro di malessere, perché gira questa gente impunita. E allora io sono per le punizioni severe per questa gente che ha sbagliato e si assume la responsabilità e soprattutto bisogna prevenire. Non bisogna arrivare a quello che è successo il giorno di Sant'Agata con questa ragazzina. È terribile. Io da padre sono sconvolto. Non posso pensare che mia figlia esce con un ragazzino e viene travolta da energumeni di questo spessore. Sì, ha perfettamente regione. In più voglio sottolineare che spero non ci sia da parte dei media questa volta una narrazione tossica degli eventi. Io questa mattina assieme ad altri ho voluto realizzare il mio piccolo sit-in davanti al tribunale proprio per gli interrogatori di garanzia, perché vorrei che l'attenzione non fosse rivolta a colpevolizzare poi la vittima giustificando gli autori della violenza, perché spesso i media si rendono responsabili di una narrazione tossica. A volte si cerca invece di analizzare il contesto, le dinamiche psicologiche che agitano il branco. Si parla addirittura di contagio emotivo, ecco. Però tutto serve semplicemente a sminuire o affievolire le responsabilità di ciascuno. Oggi alcuni giornalisti all'uscita del GIP, all'uscita anche di uno degli avvocati difensori, ha rivolto domande del tipo, ma il soggetto X è pentito di ciò che ha fatto? Ecco, arrivare a dire, oppure si rende conto della gravità di ciò che ha fatto? Io penso che noi non dobbiamo assolutamente focalizzare l'attenzione sul rendersi consapevoli di ciò che si è fatto. Stiamo parlando di aggressioni, stiamo parlando di stupri. Arrivare a fare una domanda del tipo, ci si rende conto di ciò che ha fatto? È veramente assurdo. Adesso c'è da difendere una vittima che ha denunciato e tengo a sottolineare che spesso, purtroppo, non tutte trovano il coraggio di denunciare, soprattutto se in giovane età, così come in questo caso. Quindi noi come associazione, ma anche l'attività, come comunità, siamo vicinissimi alla ragazza e alla famiglia e qualora lo volessero, ecco, pronti a sostenerle in tutto e per tutto. E vi gireremo anche sulle singole udienze, proprio perché non vorremmo che ci fossero persone atte a colpevolizzare la vittima, oppure a mettere a nudo le abitudini sessuali, le abitudini della ragazza, tanto da portare ad indurre ad una sorta di incredulità sulla veridicità delle affermazioni fatte o la credibilità appunto della persona. Quindi noi oggi volevamo esserci anche per questo, per il pieno sostegno alla ragazza e alla famiglia, consapevoli che purtroppo ci ritroviamo a dover contrastare anche spesso una narrazione che è tossica, che va a determinare tutta una serie di, chiamiamole, non tanto di alibi, ma sicuramente quelle situazioni che tendono a minimizzare le colpe. Ed è una cosa che non possiamo permetterci. Grazie dottoressa, io le dico per quello che ci riguarda, noi come redazione, come gruppo editoriale saremo con gli occhi puntati su quello che accade, sulla realtà e fotograferemo la situazione. Ci auguriamo ovviamente che la solidarietà per questa ragazza che è stata stuprata sia all'apice dell'interesse di tutte le istituzioni che venga tutelata e questi soggetti che hanno portato a compimento questo crimine vengano puniti come esempio anche per quei giovani che pensano magari troppo alle clip e ai like piuttosto che alla realtà che noi viviamo quotidianamente. Io la ringrazio per essere stata con noi, avremo modo chiaramente di aver partecipato a questo primo appuntamento che io voglio chiudere con i saluti a voi e vi ricordo la nostra mail per raggiungerci con le vostre considerazioni, redazione spazionotizia.it saremo a vostra disposizione per entrare nel merito di quelle notizie che hanno bisogno sicuramente di un approfondimento corretto. Grazie per aver seguito, arrivederci. Grazie a tutti.